Nella signorile casa londinese di sua zia, Eddie Brandon, il noto artista Basil Hallward, incontra Dorian Gray. Dorian è un giovane colto ricco e incredibilmente bello, che cattura immediatamente l'immaginazione artistica di Basil. Dorian brusa per diversi ritratti e Basil lo raffigura spesso con un antico eroe greco, una figura mitologica. Quando il romanzo inizia, l'artista sta completando il suo primo ritratto di Dorian, così come veramente, ma come ammetta il suo amico Lord Henry Botton, il dipintolo delude, perché rivela troppo dei suoi sentimenti per il soggetto. Lord Henry, un famoso spirito che ama scandalizzare i suoi amici, celebrando la giovinezza, la bellezza e l'egolistica ricerca del piacere. Non avete d'accordo, affermando che il ritratto è il capolavoro di Basil. Dorian arriva allo studio, e Basil lo presenta con riluttanza a Lord Henry, che teme avrà un'influenza dannosa sul giovane e impressionabile Dorian. I timori di Basil sono fondati prima della fine della loro prima conversazione. Lord Henry sconvolge Dorian con un discorso sulla natura transitore della bellezza e della giovinezza, preoccupato che queste, le sue caratteristiche più impressionanti, stiano svanendo di giorno in giorno. Dorian maledice il suo ritratto, che crede un giorno ricorda la bellezza che avrà perso. In un impeto di angoscia promette la sua anima. Se il dipinto potesse sopportare il peso dell'età e dell'infamia, consentendo di rimanere per sempre giovane. Dopo gli sfoghi di Dorian, Lord Henry riafferma il suo desiderio di possedere il ritratto, tuttavia Basil insiste che il ritratto a partire a Dorian. Nelle settimane successive l'influenza di Lord Henry su Dorian si rafforza. Il giovane diventa un discepolo del nuovo edonismo e propone di vivere una vita dedicata alla ricerca del piacere. Dorian si innamora di Sybille Vane, una giovane attrice che si esibisce in un teatro nei bassi fondi di Londra. Adora la sua recitazione. Lei a sua volta si riferisce a lui come il principe azzurro e si rifiuta di dare ascolto agli avvertimenti di suo fratello, James Vane, che Dorian non è buono per lì. Sopraffatta dalle sue emozioni per Dorian, Sybille decide che non può più recitare, chiedendosi come può fingere di amare sul palco Uga che ha sperimentato l'accusa reale. Dorian chiama Sybille per la sua capacità recitativa, rompe brutalmente il suo fidanzamento con Lee. Dopo averlo fatto, torna a casa e nota che il suo viso nel ritratto di Basile è cambiato. Uga soghigna, spaventato che il suo desiderio e la sua immagine del dipinto sopporti gli effetti negativi del suo comportamento si sia avverato e che i suoi peccati vengono registrati sulla tela. Decide di far ammenda con Sybille il giorno dopo. Il pomeriggio seguente tuttavia Lord Harry porta la notizia che Sybille si è uccisa su sollecitazione di Lord Harry. Dorian decide di considerare la sua mancanza una sorta di trionfo artistico. Lei personificava la tragedia e di mettersi la questione alle spalle. Nel frattempo Dorian nasconde il suo ritratto in una remuta stanza superiore della sua casa dove nessun altro oltre a lui può osservare la trasformazione. Lord Harry dà a Dorian un libro che descrive le malvagie imprese di un francese del XIX secolo diventa la bibbia di Dorian mentre sprofonda sempre più in una vita di peccata e corruzione. Vive una vita dedicata a raccogliere nuove esperienze e sensazioni senza riguardo per le standard comprensionali di immoralità o per le conseguenze delle sue azioni. passano 18 anni la reputazione di Dorian soffre nei circoli della buona società londinese dove si diffondono voci sulle sue scandalose imprese. I suoi paghi continuano comunque ad accettarlo perché rimane giovane e bello. La figura del dipinto tuttavia diventa sempre più avvizzita e orrenda. In una notte buia e nebbiosa Basin Hallward arriva a casa di Dorian per confrontarsi con lui sulle voci che affliggono la sua reputazione. I due litigano e alla fine Dorian offre a Basin uno sguardo alla sua anima di Dorian. mostra a Basin il ritratto orribile e Hallward inorridito lo implica di pentirsi. Dorian afferma che è troppo tardi per la penitenza. Eme uccide il povero Basin di impeto. Per sbagazzarsi del corpo Dorian si avvale dell'aiuto di un amico estraneo, un medico che ricatta la notte dopo l'omicidio. Dorian si ricatta in una sua tenuta di campagna. Mentre intrattene gli ospiti nota James Vane che sbircia attraversando una finestra e viene travolto dalla paura e dal senso di colpa. Quando una battuta di caccia spaga accidentalmente e uccide Vane, Dorian si sente di nuovo al sicuro, decide di cambiare vita ma non riesce a trovare il coraggio di confessare i suoi crimini. E il dipinto ora rivela il suo presunto desiderio di pentirsi. Per quello che è ipocrisia, in preda alla rabbia Dorian raccoglie il coltello causato per pugnalare Basin da Hallward e tenta di distruggere il dipinto. C'è uno schianto e i suoi servi entrano per trovare il ritratto illiso che mostra Dorian Gray come un bellissimo giovane. Sul pavimento giace il corpo del loro padrone, un uomo anziano orribilmente riuso e sfigurato con un coltello conficcato nel cuore. Grazie per l'ascolto e alla prossima.